No, e mi hanno detto di aspettare, lo devo sparare o no? Mi state facendo... Lo devo sparare? Che devo fare? Mi dice aspettare, chi mi dice... Riccardo Sponsi? Che devo fare? Mi dite spara, mi dite aspetta, mi dite... Che devo fare? Che devo fare? 40 secondi, mi dicono 40 secondi, ok, contate 40 secondi e lo sparo, giuro. 38 secondi, 38 secondi e lo sparo, ok, l'hub train, ho capito, deve scadere questo tempo, ok? Ok, la canzone, la canzone sottofondo, voglio, la canzone sottofondo. Un attimo, un attimo, un attimo. Allora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Oddio, santissimo benedì... Un macello... Un macello... Un macello... ok tutto a posto dopo è sparato sparato auguri ok mi sono fatto un macello ho fatto un macello però tutto a posto è sparato c'ho tutti correndo ma tu ma io ma non dico mi hanno tagato a fino a bigoriandoli forse non c'è nessuno però dico che cazzo ha combinato